Taglio doloroso, ora al nord voleremo, dice Berlusconi dopo la bocciatura di Cosentino. Di scelta giusta parla Alfano, sostenitore dell'epurazione dei cosiddetti impresentabili. Rinviata a causa dell'eccessiva resta la conferenza stampa dell'ex sottosegretario che prima di lasciare la sala domanda, tutte queste foto per un impresentabile? Monti rivendica l'operato senza precedenti del suo governo, sono entrato nell'arena politica perché il lavoro non è ancora finito, ma aggiunge il premier, se ci salveremo dipenderà da come andranno le elezioni. Intanto passa indietro del britannico Financial Times che scrive Mario Monti e Bersani hanno credibilità personale, mentre Berlusconi ha portato l'Italia sulle baratro del precipizio fiscale. Arrestato a Londra Fabio Riva, latitante dalle novembre scorso, intanto resta sotto sequestro la merce prodotta dall'Ilva, il GIP di Taranto ha accolto la richiesta della procura sollevando la questione di legittimità sulla legge salva Ilva, ora a decidere sarà la consulta. Il governo intanto prepara un nuovo decreto percorsa ostacoli anche per il futuro dell'Alitalia che intanto valuta la vendita di un pezzo. Il programma Mille Miglie Rete Imprese fa sapere che nel 2012 hanno chiuso 10.000 imprese. 5 milioni e mezzo di israeliani scelgono oggi 120 membri del Parlamento, appare scontata la conferma per la terza volta del premier Netanyahu, meno scontata appaiono le alleanze di governo. L'attenzione adesso è per due personaggi del tutto nuovi, l'imprenditore colono Naftali Bennett, ancora più oltransista di Netanyahu e il giornalista Lapid, centrista. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Sette, dunque Cosentino è stato messo fuori e non sarà candidato del PDL per colpa di PM politicizzati, ha commentato poco fa Berlusconi. Una scelta inevitabile invece ha detto Sandro Bondi, ospite questa mattina di Omnibus. e Nicola Cosentino, l'ex sottosegretaria accusato dalla magistratura di collusione con la Camorra, avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa questa mattina alle 12.30, ma per la resta dei giornalisti è stata rinviata nel primo pomeriggio. Ma la questione delle candidature nel PDL resta comunque un terreno di scontro. Vediamo. Lo aspettavano e lui aveva dato appuntamento alle 12 a Napoli per una conferenza stampa. L'impresentabile, Nicola Cosentino, che non sarà candidato nelle liste del PDL, si fa attendere ed intorno alle 12.30 arriva presso l'hotel Excelsior. Tra tutte queste pomo per un impresentabile. L'attesa è inutile, la resta troppa. L'impresentabile decide di rinviare la conferenza alle ore 15. A annunciare ufficialmente la sua esclusione era stato Nitto Palma, commissario regionale per la Campania. Così si chiude una giornata, quella di ieri, convulsa. Tira un sospiro di sollievo il segretario del PDL Alfano per quella che definisce una scelta giusta, la decisione di escludere Cosentino. Parla di un taglio doloroso Silvio Berlusconi che dovrebbe però facilitare la volata del partito al voto. Noi riteniamo che ci sono state scelte importanti e significative con un grande rigore. Credo che questo debba essere valorizzato. Ripeto, poi in presenza di vicende giudiziarie, il cui pilogo finale è tutto ancora da definire. Correvamo il rischio di parlare solo di vicende giudiziarie, commenta a sua volta Cicchitto. Una decisione inevitabile, chiude Sandro Bondi. Una giornata di caos, quella che ieri ha vissuto il partito, che si è tinta anche di giallo quando nel tardo pomeriggio sono scomparse le liste con le firme di chi aveva già accettato le candidature in Campania. Dopo il panico, la corsa a raccogliere di nuovo le firme della sparizione dei documenti. Viene accusato Cosentino, ma il partito smentisce. Ma il clima resta teso in casa PDL. Cresce il clamore sugli esclusi. Da Dell'Utria, Scaiola, Papa, Milanese, anche se alcuni di loro hanno fatto un passo indietro volontariamente. Ma altri candidati, con i conti aperti, con la giustizia, sono ancora presenti nelle nuove liste PDL. Da Amedeo Laboccetta, Luigi Cesaro, allo stesso Verdini, a Raffaele Fitto, per quest'ultimo la procura di Bari ha chiesto proprio ieri la condanna a sei anni e sei mesi per corruzione, illecito e peculato. Poche al dunque le facce nuove premiati Razzi e Scilipoti, decimati gli ex AN. Ce l'ha fatta invece la Finiana, passata a Berlusconi, Katia Polidori. In lista ci sarà Dorina Bianchi, ex Udc, ora nel PDL per la Calabria, tra le donne in prima fila Brambilla e Gelmini. Presenti anche Carfagna, Santanchè, Nunzia De Girolamo e Ravetto. Corregge il tiro oggi le Financial Times dopo il duro editoriale nei confronti di Monti. Oggi infatti promuove il professore, promuove anche Bersani, mentre boccia Berlusconi. Sentiamo. Dietro fronte del Financial Times. A 24 ore dall'editoriale di Wolfgang Munchau, che aveva criticato apertamente il premier uscente, definendo Mario Monti inadeguato a governare il paese, il quotidiano economico britannico prende le distanze dal suo editorialista e smorsa l'attacco. Boccia senza appello Silvio Berlusconi, ha portato l'Italia sull'orlo del precipizio fiscale e corregge il tiro sul professore al quale affianca anche il leader democratico. Mario Monti e per Luigi Bersani hanno credibilità personale, si legge nell'articolo, anche se non mancano le critiche ad entrambi i candidati per non aver ancora messo a punto una politica economica convincente. Sottolinea che Bersani rischia di rimanere ostaggio dell'alla sinistra del suo partito, mentre Monti deve ancora spiegare dove prenderà i soldi per sostenere Italia le tasse che ha promesso. Il sostanziale passo indietro del Financial Times è stato innescato dalla risposta di Monti. È solo l'opinione di un editorialista anti-europeista, ha scritto il Premier, che ha rivendicato l'operato senza precedenti del suo governo per tenere bassi prezzi e creare più lavoro nel settore dei servizi. Per il Premier il lavoro non è ancora finito, per questo ha deciso di entrare nell'arena politica, con un diktat per tutti i suoi collaboratori, vietato parlare di alleanze future. I Montiani corrono per vincere da soli, di alleanze si parlerà dopo, e se schieramento ci sarà, sarà con chi avrà il più alto tasso di riformismo possibile e il suo partito non farà da stampella nessuno, tantomeno a Bersani. Il leader democratico intanto continua la sua campagna elettorale, con qualche polemica verso Monti, al quale rimprovera l'appoggio d'Albertini in Lombardia invece di Ambrosoli, espressione autentica della società civile. Molti attacchi contro l'avversario Berlusconi, è un mago in grado di riproporsi con grande forza, un capitano che ha portato la nave sugli scogli, ha detto ieri sera ospite di Sky, e tante frecciate sul voto utile ai fratellastri del centro-sinistra, come in groia. Al leader di rivoluzione civile che aveva chiesto a Bendola che sinistra è quella che governa con Monti, Bersani ha risposto che sinistra è quella che rischia di far vincere la destra. Non credo il suo movimento riesca a raggiungere il quorum al Senato, ha aggiunto il leader del PD, lanciando un messaggio trasversale, chi prenderà più voti governerà il paese. Questo è il punto. Allora, dicevamo che le liste si sono chiuse ufficialmente alle 20 di ieri sera, vediamo chi hanno candidato i partiti tra facce nuove e facce conosciute. Vediamo. Riavremo, forse, Domenico Scilipoti, anche se dal suo Abruzzo è scivolato in lista in Calabria al Senato, ma in posizione assai scomoda, sesto posto. Postaccio anche per Antonio Razzi, altro grande soccorritore del governo Berlusconi. Perché lo fece? Ma per il vitalizio, naturalmente. Entrambi arrivavano dall'Italia dei valori di Antonio Di Pietro e ora sono rientrati in lista per il rotto della cuffia. Però l'importante è esserci, come il romanissimo Daniele Capezzone, origini radicali, poi portavoce del PDL. Per lui un posto nella prima circoscrizione del Senato, in Piemonte, territorio che non gli è propriamente familiare. Ci sono poi le new entry, quella del direttore Augusto Minzolini, dal Tg1 direttamente a Palazzo Madama, e numero due in Liguria dopo Berlusconi, il che equivale alla quasi certezza di passare. Il suo nome va a rafforzare la patuglia dei giornalisti, da Oscar Giannino, che corre in solitaria per fermare il declino, al santoriano Sandro Ruotolo, a fianco di Ingroia, da Mario Secchi, ex direttore del Tempo, che si presenta con Monti, a Corradino Mineo, ex direttore di Rai News, capolista del PD in Sicilia. New entry non propriamente freschissima, quella di Franco Carraro, ex presidente della Federcalcio, ex sindaco di Roma, ex ministro tre volte del turismo e spettacolo, è candidato per il PDL in Emilia Romagna, laddove fu accusato ai tempi di Calciopoli, proprio della retrocessione del Bologna. Ma la patuglia più nutrita, fra destra e sinistra, è quella degli ex, chi rimane fuori per età e chi perché è impresentabile alla Cosentino. È fuori Andrea Ronchi, ex AN e poi PDL, fuori Adolfo Urso e Pasquale Viespoli, pulizia etnica, dice qualcuno. Sono fuori dalle liste del PD, siciliani Crisafulli, Papania e Nicola Caputo, chi per sentenze passate in giudicato, chi perché è in attesa di giudizio, chi per conflitto di interessi. La politica ha ritrovato la sua virtù, staremo a vedere. Primo test immediato riguarda Raffaele Fitto, ex ministro, stava chiudendo le liste in Puglia quando gli è arrivata la richiesta di condanna, sei anni e mezzo, per corruzione e peculato. E adesso che farà? C'è stato un cambio di guardia al vertice dell'Eurogruppo, Juncker lascia il posto all'olandese Deisel Blem, nomina appoggiata dalla Germania e molto gradita dai paesi rigoristi del nord Europa. Sulla poltrona di ministro delle finanze Allaia è seduto da appena due mesi, 46 anni, laborista, laurea in economia agraria. L'olandese Jeroen Deisel Blem da ieri guida l'Eurogruppo a Bruxelles, succedendo all'ussemburghese Jean-Claude Juncker per otto anni a capo dell'organismo di coordinamento dei paesi con la moneta unica. Una nomina fortemente appoggiata da Berlino e dal gruppo dei paesi a AAA, quelli nordici più rigoristi, tanto che è stata decisa dai ministri dell'economia dell'Eurozona senza il voto della Spagna e con un forte scetticismo della Francia. Ma in qualche modo la scelta era scontata. La Finlandia ha già il commissario agli affari economici Olli Rennes, ai vertici del Fondo Monetario Internazionale c'è Christine Lagarde, francese, il tedesco Regling e a capo del Fondo Salva Stati ESM e in Italia abbiamo Mario Draghi, numero uno della BCE. Più che il curriculum, insomma, hanno contato lo sponsor tedesco e gli equilibri nazional-diplomatici. L'austerity e i conti in pareggio sono la premessa a più investimenti e crescita, ma la strada per ottenere i conti in ordine è dura. Una linea di programma, quella del nuovo presidente, che sembra chiaramente rafforzare la tendenza verso l'austerity, proprio quando, da più parti, le istituzioni finanziarie internazionali riflettono sulle ricadute negative delle politiche eccessivamente rigoriste e potenzialmente recessive. L'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, intanto, ha reso noti i dati mondiali della disoccupazione. Il numero dei senza lavoro continua a salire e dovrebbe superare i 200 milioni nel 2013, 210 nei prossimi cinque anni. Il tasso generale tocca il 5,9% e ancora una volta sono i giovani, la categoria più colpita dalla crisi del mercato del lavoro, con una situazione grave, soprattutto in Europa, dove tra i 15 e i 24 anni i disoccupati sono il 12,6%. E a testimoniare lo stato di crisi arrivano questi dati. Nei primi nove mesi del 2012 hanno chiuso i battenti oltre 216 mila imprese artigiane e dei servizi. Lo afferma un'analisi di Rete Imprese Italia, ossia Conf Artigianato, Conf Commercio, CNA, Conf Esercenti e Casa Artigiani. Secondo le stime dell'Associazione, poi la pressione fiscale effettiva nel 2013 salirà al 56%. Anche per questo Rete Imprese ha indetto per il prossimo 28 gennaio una giornata di mobilitazione durante la quale verrà presentato un documento a tutte le forze politiche con delle proposte per la prossima legislatura in tema di fisco, credito e burocrazia. Ci sono novità per quanto riguarda la vicenda Ilva, resta infatti sotto sequestro la merce. Oggi è arrivata la decisione del G. Petodisco che ha accolto la richiesta della Procura e ha inviato la legge cosiddetta Salva Ilva alla Corte Costituzionale. Della vicenda se ne occuperà anche il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio e a Londra è stato arrestato Fabio Riva che era latitante dal novembre scorso anche se in una nota l'azienda ha fatto sapere che non è stato arrestato ma è in libertà vigilata a Londra. Vediamo il servizio. La notizia arrivata poco fa da Londra, l'arresto di Fabio Riva figlio del padrone Emilio e presidente della finanziaria di famiglia Riva Fire SPA rende ancora più tesa la situazione del siderurgico di Taranto. Contro Fabio Riva la Procura di Taranto aveva spiccato un mandato di cattura internazionale per disastro ambientale. Il mese scorso i suoi legali avevano preannunciato l'intenzione del loro assistito di costituirsi. Intanto però per l'acciaio conteso l'Ilva deve ancora aspettare. Sul dissequestro del 1.700.000 tonnellate di merce il giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale come aveva già fatto la settimana scorsa il Tribunale di Taranto in funzione di giudice di appello. Sott'esame la legge salva Ilva che autorizza appunto la commercializzazione di quei prodotti nonostante i sigilli dei magistrati. Ora i tempi si allungano. Considerato che la prima riunione della consulta per stabilire se il ricorso è ammissibile è in programma il 13 febbraio. Ma sul dissequestro si gioca una partita vitale. Senza Coils e Lamiera ribadito ieri il presidente dell'Ilva Ferrante in un incontro con i sindacati la situazione resta drammatica. Gli stipendi sono a rischio e con Taranto andranno incontro alla chiusura anche Genova e Novi Ligure. I vertici del gruppo Siderurgico hanno chiesto formalmente la revoca del sequestro con l'impegno di destinare il ricavato alle opere previste dall'AIA e agli stipendi. Così come aveva proposto il governatore della Puglia, Vendola, l'Ilva Chiedel di sequestro aveva detto Vendola, ma vincoli il ricavato un miliardo di euro al pagamento degli stipendi e alle opere di risanamento. A gestire i soldi potrebbe essere il garante nominato dal governo. Anche il ministro Clini si è espresso favorevolmente. La questione Ilva comunque arriverà oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri. Il governo, dopo il vertice d'urgenza di minerdì scorso, sta studiando l'ipotesi di un nuovo decreto per sbloccare la situazione e domani Clini sarà a Taranto. Vedrà tra gli altri anche il capo della procura di Taranto, Franco Sebastio, che ha accettato con riserva l'invito del ministro solo dopo gli incontri istituzionali previsti in prefettura, ha precisato il procuratore. Mentre a Taranto la decisione del GIP di questa mattina è stata vissuta dagli operai come una doccia fredda, la situazione per ora è tranquilla, ma se gli stipendi di febbraio dovessero saltare c'è il rischio di nuova tensione. Informative di forze di polizia parlano di un movimento operaio sempre più disaggregato, mentre ieri sera altri 500 poliziotti sono stati fatti arrivare in città. Un'altra vicenda che torna in primo piano è quella che riguarda l'Italia. Oggi infatti si riunisce il comitato esecutivo, un importante appuntamento perché c'è in ballo il futuro della compagnia aerea e soprattutto la fusione con Air France. All'Italia i conti in rosso e poca liquidità in cassa e così oggi il comitato esecutivo della compagnia potrebbe decidere di scorporare dall'azienda il programma Mille Miglia, la tessera che premia i cosiddetti frequent flyers, i passeggeri più fedeli. Un'attività tipica delle compagnie aeree che con i circa 4 milioni e 800 mila iscritti costituisce una banca dati del valore di 250 milioni di euro. Un'operazione questa che secondo i manager dovrebbe far dormire sonni tranquilli alla compagnia almeno per i prossimi mesi ed evitare così il temuto aumento di capitale. All'Italia che in quattro anni ha accumulato nel bilancio oltre 735 milioni di rosso dovrebbe in questo modo arrivare con maggiore serenità al match finale con Air France, la compagnia francese che possiede già il 25% di All'Italia e che marcia spedita verso la fusione, fusione che non riuscì ai francesi quattro anni fa. Era il 2008 e anche allora si era in piena campagna elettorale. L'italianità della compagnia aerea fu il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi che pur di non farla finire in mani francesi formò un'accordata di imprenditori italiani definendoli patrioti che rilevarono la compagnia con la regia dell'allora capo di banca intesa Corrado Passera, oggi ministro dello sviluppo. Con lo Stato italiano che si è accollato ai costi dell'operazione di salvataggio in termini di prepensionamenti, cassa integrazione e liquidazione dei rami in perdita, circa 4 miliardi di euro. Insomma, dopo quattro anni all'Italia con i conti in rosso è di nuovo sotto l'assedio dei francesi e più o meno al punto di partenza, a meno che la politica non torni di nuovo a far sentire la sua voce. Io sono favorevole a completare il lavoro che sta facendo all'Italia e poi a giocarsela, se del caso e se ci sono le giuste condizioni, nel creare un'azienda europea leader nel campo aereo. Intanto c'è attesa per il verdetto del Consiglio di Stato, riunito oggi, che dovrebbe mettere fine al conflitto tra l'Italia e EasyJet sulla cessione dell'islotto sulla redditizia tratta Roma-Milano. Ci sono stati arresti importanti a Milano, coinvolta una società che fa capo alla Compagnia delle Opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione. Tangenti è una rete di amicizie, l'aderenza comune alla Compagnia delle Opere e il braccio imprenditoriale di CL. Ecco cosa guidava spesso, secondo l'accusa, l'assegnazione di appalti per il noleggio di autovetture banditi da una serie di società pubbliche a Milano, l'Aler, ex Istituto Autonomo Case Popolari, gli istituti clinici di perfezionamento, la metropolitana milanese, le ferrovie Nord Milano. Con gare e cucite su misura vinceva sempre la ditta Kaleidos di Saronno nel Vare Sotto. Il presidente, l'amministratore delegato e il direttore vendite sono tutti nel direttivo della Compagnia delle Opere di Saronno. Hanno le amicizie giuste nei posti giusti, al vertice delle società che fanno di appalti. Dentro Aller, le ferrovie e gli ospedali trovano i referenti di CL. Il giudice milanese, che ha firmato gli arresti, parla di mutuo sostegno e di sistema politicamente orientato, con comportamenti che fanno dimenticare l'interesse pubblico. Il procuratore, che ha condotto l'inchiesta, insiste sul comune sentire. Questa struttura di Kaleidos è una struttura che era insedita, come dicevo, nell'ambito più ampio della Compagnia delle Opere. Quindi il pubblico funzionario, anziché rispondere alle esigenze di imparzialità, invece rispondevano ad esigenze dei compagni di cordato. Negli atti c'è una intercettazione di quasi un anno fa. L'impero di Formigoni-Scricchiola, un uomo parla con l'amministratore delegato di Kaleidos, Ciellino. Il manager ha fiutato il pericolo, dice al telefono. Vogliono far cadere Formigoni. L'interlocutore risponde non possiamo puntellare l'impero romano in decadimento, pensa alla tua azienda. Ovviamente non c'è solo il comune sentire, girano anche mazzette. La società le recupera alzando il prezzo della commessa vinta. Sono soldi pubblici. Ci sarà un impegno italiano in Mali, lo ha parlato il ministro della difesa di Paola. Sarà comunque un impegno logistico e comunque dovrà essere deciso dal Parlamento. Due aerei da trasporto e uno per i rifornimenti in volo. L'Italia potrebbe fornire anche un supporto logistico alle operazioni militari che i francesi stanno svolgendo in Mali. Lo ha detto il ministro della difesa di Paola, secondo il quale l'Italia non può sottrarsi alla lotta globale al terrorismo che ha preso piede e potenza nella vasta regione africana del Sahel. Per questo, ha detto Di Paola, potremmo mandare per due o tre mesi i nostri aerei, oltre agli istruttori, dai 15 ai 24, già previsti per la missione europea. Certo dovrà esserci il pieno sostegno del Parlamento, concetto ribadito anche dal ministro degli esteri terzi, ma l'Italia dovrà fare la sua parte nel tentativo di trovare una soluzione ad una crisi che potrebbe durare a lungo e che rischia di trasformare il Sahel in un nuovo Afghanistan o peggio in una nuova Somalia. Di questo si occuperà oggi il Consiglio dei Ministri. L'assalto in Algeria è stata una drammatica dimostrazione del pericolo rappresentato dagli jihadisti. Un concreto sostegno dovrebbe arrivare anche da Londra, che ha messo in allerta i suoi militari. Forze della Marina e dell'aviazione saranno inviate in Africa, se Parigi lo richiederà. Intanto i 2000 francesi dispiegati sul terreno a sostegno dell'esercito maliano, ieri hanno riconquistato la città di Diabali, mettendo in fuga verso il nord-est del Mali gli insorti. E oggi ad essere sotto i bombardamenti transalpini ci sono i dintorni di Timbuktu, la mitica città del deserto, culla della cultura islamica tollerante, finita in mano agli integralisti di Ansardine, che da quasi un anno la governano a suon di frustate e mutilazioni. Giornata di elezioni in Israele dove si vota per il rinnovo del Parlamento nazionale. Il premere uscente Netanyahu resta il favorito anche nei sondaggi. Le urne si chiuderanno alle 21 ore italiana. Sentiamo la nostra inviata a Gerusalemme, Silvia Brasca. Il primo a entrare al suo seggio e dare idealmente il via alla giornata elettorale in Israele è stato il premere uscente Bibi Netanyahu. Alle 7 della mattina con la sua famiglia l'invito agli elettori a scegliere per le formazioni più grandi, qualcosa che rende Israele simile all'Italia, con i suoi 34 partiti che devono cercare di superare lo sbarramento del 2%. Sondaggio a favore dell'Ikud come primo partito, ma l'attenzione è tutta per i due nuovi personaggi sulla scena politica. Il quarantenne Naftali Bennett, più oltransista di Netanyahu, è capace di parlare ai giovani dei territori occupati e anche ai disoccupati delle città israeliane. E' lui la novità insieme all'ex anchor della tv israeliana Yair Lapid, su posizioni centriste a dar fastidio sia a destra che ai laburisti, che si presentano con una donna, anche lei passata per gli studi televisivi, Shelley Yachimovic, che ha messo in posizione secondaria la questione palestinese a favore dei temi del welfare e dell'economia. Prenderanno seggi anche Zipi Livni, i piccoli partiti religiosi e la sinistra combattiva di Meretz, forte tra i giovani delle università laiche. Una campagna elettorale combattuta fino all'ultimo secondo e anche fino all'ultimo centimetro. Guardate questo seggio in una scuola di Gerusalemme, è praticamente assediato dai sostenitori dei protagonisti di queste elezioni, appendono ancora i manifesti e distribuiscono volantini e adesivi. Hanno speso tanto i partiti in queste elezioni, giocate il più possibile su internet, sui social network. Israele, la start-up nation, ha trovato nelle nuove tecnologie e la ciambella di salvataggio dalla crisi mondiale. Ma il web è un mondo lontano dagli anziani in difficoltà, con pensioni che non crescono, e dal mondo ultra-ortodosso che conta eccome in questo paese ed è combattivo con i mezzi di una volta, manifesti ai balconi delle case, sulle macchine che passano per i quartieri. Questa sera gli exit poll alle 21 ore italiane. Nella notte i risultati più definitivi. Osservatori particolari gli Stati Uniti e in un editoriale, il Washington Post, consiglia Obama di esercitare ogni pressione su Netanyahu per formare un governo centrista e non cadere nell'influenza della destra più estrema. E siamo allo sport, stasera prima semifinale di Coppa Italia. A Torino si gioca Juventus e Lazio mentre continuano a muoversi le trattative delle calciomercato. Tra Juventus e Lazio è sfida totale, sia in campionato che in Coppa Italia le due squadre esprimono al massimo i loro valori. Stasera primo round in Coppa Italia con la semifinale d'andata a Torino. Conte schiera parecchie seconde linee con solo Matri in attacco. A Petkovic manca close, ma per il resto ci saranno tutti, compreso Hernanes, al quale proprio la Juventus sembra essere molto interessata per il futuro. Il presente invece si chiama top player. I bianconeri sono ormai all'ultima chiamata per Llorente o Drogba. Per avere subito l'attaccante spagnolo del Bilbao, Marotta pagherebbe 3 milioni di euro più l'ingaggio. Ma la società basca resiste, rischiando però di perderlo a luglio prossimo a parametro zero, senza cioè incassare un soldo. Nel frattempo la Juve aspetta segnali da Drogba. Per il cartellino Marotta non intende spendere un euro, quindi dovrà essere il giocatore a liberarsi dai cinesi dello Shanghai e se riuscisse a farlo la Juve sarebbe in vantaggio sulle altre concorrenti. A quanto si apprende, il Milan, nonostante le parole di Galliani, che ieri ha parlato di trattativa bloccata, non avrebbe definitivamente rinunciato a Kakà. Il Milan ha già l'accordo col giocatore, 6 milioni all'anno per due anni e mezzo, ma vuole solo il prestito, mentre il Real chiede almeno 12 milioni per la cessione definitiva. Difficile però che il Real voglia pagare altri sei mesi di ingaggio ad un giocatore da ormai tre anni emarginato, tra panchina e tribuna. Più probabile che si raggiunga un accordo economico tra le due società, oggi nuovo contatto. Non è morta neanche la trattativa per Balotelli, il suo procuratore Mino Raiola ha lasciato aperta una piccola porta con una battuta. Mario adesso non si muove, ha detto, ma il 31 gennaio chissà. Il Milan sogna e intanto l'Inter, ceduto Sneijder, prepara l'assalto al brasiliano Paulinho, pronti 15 milioni per il Corinthians e due e mezzo a stagione per tre anni al giocatore. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Non ci sono aggiornamenti, è tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it, l'edizione delle 20, grazie per essere stati con noi, noi ci vediamo domani, buona giornata. Grazie a tutti.